In mano tra due persone che si sono affrontate in una campagna elettorale, dei toni molto soft rispetto ad altre situazioni. Penso proprio che sì, una campagna elettorale civile, in democrazia per fortuna cade anche questa, quindi c'è un nuovo sindaco, ci sarà tra qualche giorno, forse tra qualche ora, la proclamazione degli eletti, è stato un primo incontro informale, nel quale ci siamo scambiati un po' di idee, ma soprattutto sugli atti amministrativi più urgenti. Sì, quando si assume la carica di sindaco si dimentica quello che è successo prima e si sente immediatamente la responsabilità di dover amministrare una città, tra l'altro in un periodo non proprio facilissimo come quello estivo per Alghero, e quindi ringrazio Mario intanto per avermi voluto incontrare prima della proclamazione ufficiale, perché penso che anche lui abbia la preoccupazione di dover dare una continuità all'amministrazione della città e quindi oggi immediatamente abbiamo fatto un quadro della situazione, abbiamo parlato un po' dei problemi più importanti e adesso poi appena ci sarà la proclamazione faremo il passaggio ufficiale, formale, però intanto ringrazio Mario per questa attenzione che è importante, che è un'attenzione verso la città soprattutto.